Una grossa fiera zootecnica dove mi ha spiegato ci sarà una tenda dove si potrà bere birra tutto il giorno ma non credo che ci andrò. La regina Elisabetta che saluta mitica questa, mitica. Qui la faccenda è seria amici, molto seria. Zuppa di granchi oggi. Questo colore mi dona...